Torna il jazz italiano per le terre del sisma il 3-4 settembre con oltre 200 musicisti e 12 location nel centro storico, un evento che ormai è un punto fermo e che chiude la ricche estate cittadina. Ad organizzare la federazione nazionale il jazz italiano con il coordinamento operativo dell'associazione jazz all'Aquila, sostenuto da Comune, Regione, Ministero della Cultura e tanti altri partner, sia e come sempre il main sponsor. Il 27 agosto c'è stata la partenza da Camerino con il cammino solidale che porterà l'Aquila. L'edizione del 2022 vede l'omaggio a Pasolini e Charles Mingus. Oltre ai concerti tante le iniziative collaterali. L'arrivo a Raquila è previsto sabato alle 16 alle 99 cannelle. La sera in piazza ci sarà Enrico Rava con la violinista Anai Drago. Ma gli artisti saranno tantissimi. Il gran finale ci sarà domenica sera con Franco D'Andrea e DJ Rocca, confermata la collaborazione con Alexander Platz Jazz Club. Sono attesi nomi importanti del calibro di Dario Carnovale, Lorenzo Conte, Enrico Morello, Vito Quaranta. C'è sempre una grandissima espressione di tutto il jazz italiano, sia dal punto di vista ovviamente generazionale, di stile, geografico, insomma, quindi c'è una grande rappresentanza. Quest'anno voglio ricordare ci sono, c'è l'anniversario, il centenario di due grandi artisti che sono Charlie Mingus e Pierpaolo Pasolini. Quindi i tre direttori artistici che sono Riccardo Brazzale, Francesco Mariotti e Claudio Filippini hanno voluto ispirare insomma tutta la manifestazione di quest'anno a queste due grandi personalità culturali. E quindi ci sarà veramente una due giorni piena di musica, c'è lo spazio Jazz Club, ci sono i laboratori per bambini del jazz da scuola, c'è una partecipazione molto più forte quest'anno delle associazioni afferenti alla federazione il jazz italiano. E quindi questo ovviamente non fa altro che diversificare e anche arricchire ancora di più, proprio perché le prospettive anche di ogni associazione sono diverse e quindi il panorama è molto più ricco a livello proprio di offerta culturale.